www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Viaggiare per Cartanessetta con andatura lenta per non incorrere in qualche tamponamento o molto più facilmente in qualche impantanamento da cui non poter uscire questo sarebbe il rischio concreto che l'automobilista corre da alcuni giorni allorquando in qualsiasi momento della giornata si dirige verso il capoluogo di provincia Sull'argomento sembra esserci silenzio nonostante che le autorità comunali abbiano già segnalato a chi di dovere le condizioni attuali in cui si trova il sistema viario comunale e provinciali chiedentone l'intervento Infatti è notori a tutti che le strade sono malmesse l'esistenza di pericolosi detriti in mezzo alla strada la notevole fanchiglia riversatasi e formatesi per le abbondanti piogge e successivamente accatestata ai bordi della strada riducendo nella corsia mettono ora in serio pericolo l'incolumità delle persone che debbano raggiungere caltanissetta per motivi di lavoro e paesi vicini anche per motivi commerciali Sono numerosi i pendolari per caltanissetta e non solo loro che sono seriamente preoccupanti per questo stato di cose che non sembrerebbero essere vicini a soluzione e che invocano a viva voce l'interessamento e l'intervento della politica www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete